Amalassunta, regina dei Goti. Amalassunta 495 circa, isola Martana. 30 aprile 535 è stata l'unica figlia del re Ostrogoto Teodorico. Con la morte del padre, nel 526, divenne reggente del regno degli Ostrogoti in nome del figlio Atalarico. Amalassunta era una donna colta e raffinata, educata alla corte di Ravenna, dove aveva appreso la lingua latina, la cultura classica e la religione cristiana. Era anche una donna politica capace e lungimirante, che si impegnò a mantenere la pace e la prosperità del regno degli Ostrogoti. Nella sua politica interna, Amalassunta cercò di conciliare le esigenze dei Goti, la popolazione germanica che aveva conquistato l'Italia, con quelle dei Romani, la popolazione autoctona. Per questo motivo, restituì i beni confiscati alle famiglie di Simmaco e Boezio, due importanti esponenti dell'aristocrazia romana, e promosse la cultura e l'istruzione sia dei Goti che dei Romani. Nella sua politica estera, Amalassunta cercò di mantenere buoni rapporti con l'impero bizantino, che era il principale rivale degli Ostrogoti. Per questo motivo, appoggiò le operazioni della flotta bizantina di Belisario, impegnata nella guerra contro i vandali, impossessandosi della fortezza di Lilibeo, in Sicilia. Tuttavia, la politica di Amalassunta non fu gradita a tutti. Alcuni nobili Goti, infatti, erano contrari alla sua apertura verso i Romani e alla sua politica di conciliazione. Questi nobili, guidati da Teodato, cugino di Amalassunta, complottarono contro di lei e la fecero uccidere nel 535. La morte di Amalassunta segnò l'inizio della guerra tra l'impero bizantino e gli Ostrogoti, che portò alla conquista dell'Italia da parte dei bizantini. L'eredità di Amalassunta Amalassunta è una figura storica importante, che ha lasciato un'eredità significativa. Alcuni storici la considerano una figura positiva, che ha cercato di costruire un regno pacifico e prospero, in cui Goti e Romani potessero convivere pacificamente. Altri storici, invece, la considerano una figura negativa, che ha favorito i Romani a scapito dei Goti. Indipendentemente dalle opinioni, Amalassunta è una figura storica importante, che ha lasciato un segno significativo nella storia dell'Italia. La morte di Amalassunta è avvenuta il 30 aprile 535, sull'isola Martana, nel lago di Bolsena. La regina era stata rapita da Teodato, cugino e successore di suo padre Teodorico, e portata sull'isola, dove fu rinchiusa in una torre. Le circostanze della morte di Amalassunta non sono del tutto chiare. Secondo Procopio di Cesarea, autore bizantino contemporaneo degli eventi, Amalassunta fu strangolata dai sicari di Teodato, che erano stati pagati da alcuni nobili Goti contrari alla sua politica di conciliazione con i Romani. Tuttavia, alcuni storici ritengono che la regina possa essere stata uccisa accidentalmente, mentre faceva il bagno. Secondo questa teoria, i sicari avrebbero cercato di strangolare Amalassunta mentre era in acqua, ma la corda si sarebbe impigliata in un ramo e l'avrebbe trascinata sott'acqua, provocandone la morte per annegamento. Qualunque sia stata la causa della morte, Amalassunta fu una figura tragica. Era una donna colta e capace, che aveva cercato di costruire un regno pacifico e prospero, in cui Goti e Romani potessero convivere pacificamente. La sua morte segnò l'inizio della guerra tra l'impero bizantino e gli ostrogoti, che portò alla conquista dell'Italia da parte dei bizantini. La leggenda della regina Amalassunta La morte di Amalassunta ha dato vita a una leggenda popolare, secondo la quale la regina non sarebbe morta, ma sarebbe stata trasformata in un fantasma che vaga per l'isola martana. Secondo la leggenda, il fantasma di Amalassunta appare nelle notti di luna piena, vestita di bianco e con i capelli sciolti. La regina piange la sua morte e la perdita del suo regno. La leggenda della regina Amalassunta è ancora oggi popolare in Italia. L'isola martana è una destinazione turistica popolare, e molti visitatori vengono a visitare il luogo in cui la regina ha perso la vita. Amalassunta, regina dei goti. Amalassunta 495 circa, isola martana, 30 aprile 535 è stata l'unica figlia del re ostrogoto Teodorico. Con la morte del padre, nel 526, divenne reggente del regno degli ostrogoti in nome del figlio Atalarico. Amalassunta era una donna colta e raffinata, educata alla corte di Ravenna, dove aveva appreso la lingua latina, la cultura classica e la religione cristiana. Era anche una donna politica capace e lungimirante, che si impegnò a mantenere la pace e la prosperità del regno degli ostrogoti. Nella sua politica interna, Amalassunta cercò di conciliare le esigenze dei goti, la popolazione germanica che aveva conquistato l'Italia, con quelle dei romani, la popolazione autoctona. Per questo motivo, restituì i beni confiscati alle famiglie di Simmaco e Boezio, due importanti esponenti dell'aristocrazia romana, e promosse la cultura e l'istruzione sia dei goti che dei romani. Nella sua politica estera, Amalassunta cercò di mantenere buoni rapporti con l'impero bizantino, che era il principale rivale degli ostrogoti. Per questo motivo, appoggiò le operazioni della flotta bizantina di Belisario, impegnata nella guerra contro i vandali, impossessandosi della fortezza di Lilibeo, in Sicilia. Tuttavia, la politica di Amalassunta non fu gradita a tutti. Alcuni nobili goti, infatti, erano contrari alla sua apertura verso i romani e alla sua politica di conciliazione. Questi nobili, guidati da Teodato, cugino di Amalassunta, complottarono contro di lei e la fecero uccidere nel 535. La morte di Amalassunta segnò l'inizio della guerra tra l'impero bizantino e gli ostrogoti, che portò alla conquista dell'Italia da parte dei bizantini. L'eredità di Amalassunta Amalassunta è una figura storica importante, che ha lasciato un'eredità significativa. Alcuni storici la considerano una figura positiva, che ha cercato di costruire un regno pacifico e prospero, in cui goti e romani potessero convivere pacificamente. Altri storici, invece, la considerano una figura negativa, che ha favorito i romani a scapito dei goti. Indipendentemente dalle opinioni, Amalassunta è una figura storica importante, che ha lasciato un segno significativo nella storia dell'Italia. La morte di Amalassunta è avvenuta il 30 aprile 535, sull'isola Martana, nel lago di Bolsena. La regina era stata rapita da Teodato, cugino e successore di suo padre Teodorico, e portata sull'isola, dove fu rinchiusa in una torre. Le circostanze della morte di Amalassunta non sono del tutto chiare. Secondo Procopio di Cesarea, autore bizantino contemporaneo degli eventi, Amalassunta fu strangolata dai sicari di Teodato, che erano stati pagati da alcuni nobili goti contrari alla sua politica di conciliazione con i romani. Tuttavia, alcuni storici ritengono che la regina possa essere stata uccisa accidentalmente, mentre faceva il bagno. Secondo questa teoria, i sicari avrebbero cercato di strangolare Amalassunta mentre era in acqua, ma la corda si sarebbe impigliata in un ramo e l'avrebbe trascinata sott'acqua, provocandone la morte per annegamento. Qualunque sia stata la causa della morte, Amalassunta fu una figura tragica. Era una donna colta e capace, che aveva cercato di costruire un regno pacifico e prospero, in cui goti e romani potessero convivere pacificamente. La sua morte segnò l'inizio della guerra tra l'impero bizantino e gli ostrogoti, che portò alla conquista dell'Italia da parte dei bizantini. La leggenda della regina Amalassunta La morte di Amalassunta ha dato vita a una leggenda popolare, secondo la quale la regina non sarebbe morta, ma sarebbe stata trasformata in un fantasma che vaga per l'isola martana. Secondo la leggenda, il fantasma di Amalassunta appare nelle notti di luna piena, vestita di bianco e con i capelli sciolti. La regina piange la sua morte e la perdita del suo regno. La leggenda della regina Amalassunta è ancora oggi popolare in Italia. L'isola martana è una destinazione turistica popolare, e molti visitatori vengono a visitare il luogo in cui la regina ha perso la vita. Grazie. Grazie.